Extra, tutti i colori dell'attualità, con Claudio Micalizio. Bentornati, bentornati ad Estra. Ed era inevitabile che il mancato conseguimento dell'assegnazione di Expo 2030 aprisse a Roma e non soltanto un dibattito sulle responsabilità di questa debacle, posto che sulla possibilità di ospitare l'esposizione universale tra sette anni in molti avevano visto una possibilità di sviluppo sul piano economico per la città e per tutto il territorio del Lazio. Anche noi ne parliamo in questa puntata di Estra. Prima, come sempre, Silvia Corsi con la sua copertina ci aiuta a focalizzare il tema di oggi. Ha vinto Riad o ha perso Roma? È un successo dell'Arabia Saudita confermare di come la potenza petrolifera di quel quadrante del mondo voglia sempre più affacciarsi sugli scenari internazionali o ha perso l'Italia la sua capacità seduttiva, organizzativa e diplomatica? All'indomani della mancata assegnazione di Expo 2030 il dibattito politico e mediatico gravita attorno a questo incrocio di interrogativi. Di certo il piazzamento che vede la Capitale all'ultimo posto nella classifica per l'assegnazione dell'esposizione universale che si terrà tra sette anni è un risultato che alla vigilia nessuno avrebbe mai voluto immaginare. E invece è andata male e oggi, mentre ancora ci si lecca le ferite per l'occasione mancata ci si interroga sulle responsabilità di un flop che ora si accompagna all'inevitabile scambio di accuse e all'altrettanto consueto scaricabarile di responsabilità. È una sconfitta su cui il Campidoglio aveva investito molte aspettative nei primi due anni di mandato oppure è un K.O. per tutte le istituzioni dal governo alla regione Lazio che pure avrebbero dovuto contribuire a tessere le trame per accaparrarsi i consensi dei giurati del BIE? Di certo l'esperienza parigina è stata amara per il sindaco Gualtieri rimasto pressoché solo negli ultimi giorni della competizione dopo il forfè di Meloni e Rocca che non hanno fatto neppure le valigie così da presagire che per l'Italia non ci sarebbe stato nulla da festeggiare. E qui via con le polemiche e le recriminazioni. Riad del resto il successo se l'era intestato già da mesi con una massiccia campagna di promozione di immagine turistica che dava per scontato l'assegnazione dell'Expo già sulle maglie della Roma giallorossa mentre da giorni molte città europee circolano autobus griffati con la promozione dello Stato arabo. Il marketing, si sa, deve correre e a volte si assume una buona dose di rischi ma c'è ancora chi ipotizza che forse sotto sotto tutto era già stato deciso da tempo e sotto banco. Allora, al di là delle polemiche è inevitabile riflettere su cosa accadrà adesso soprattutto quali ripercussioni avrà la mancata assegnazione di Expo 2030 per la città di Roma noi siamo collegati con Natale Di Cola che è il segretario generale per Roma e Lazio della CGL. Buonasera e benvenuto a Estra. Buonasera a voi. Avrà sentito dalla copertina di Silvia Corsi quanti interrogativi aleggiano. Lei intanto che idea si è fatta? Come mai non siamo riusciti a portarci a casa l'Expo? Premesso che sapevamo che sarebbe stata dura con Riad però ritrovarsi dopo la Corea del Sud con tutto rispetto ovviamente insomma qualche interrogativo lo solleva. Il servizio pone una domanda all'inizio che io condivido e penso che la risposta sia che ha perso l'Italia perché il governo non ha creduto in questo progetto la regione anche e hanno lasciato da sola la capitale a far fare una figura che avrà un effetto negativo in tutto il mondo e che lascia nei cittadini un senso di sfiducia nei confronti delle istituzioni. È davvero sbagliato far credere che sia un passo dalla vittoria quando poi si arriva a ultimi e non si ha il consenso neanche del continente di cui l'Italia fa parte e quindi l'Europa. Quindi penso che sia necessario non archiviare questa sconfitta subito ma fare una profonda riflessione perché che il governo non investa su Roma lo vediamo in ogni atto lo vediamo sul giubileo non ci sono le risorse per far fronte al giubileo lo fa sulla finanziaria facendo dei tagli e ci preoccupa che il sindaco Gualtieri fino adesso non ha detto nulla per rivendicare l'orgoglio delle cittadine e dei cittadini romani che purtroppo hanno subito una batosta che si ricorderanno a lungo. Segretario, quando lei poco fa diceva che il governo ha lasciato sola la città di Roma immagino non si riferisca al fatto che nessuno dei rappresentanti di spicco quantomeno dell'esecutivo abbia raggiunto Parigi per la proclamazione ma perché lei dice nei mesi precedenti in realtà non ha fatto quello che doveva per sostenere la candidatura della Capitale? Parliamo di una competizione che si vince grazie alla forza diplomatica dei paesi ed è evidente che il risultato ci racconta che questo sforzo diplomatico non c'è stato o peggio che il nostro paese non è ben rappresentato o non ha la forza il progetto di Roma dal punto di vista tecnico era un progetto molto valido va da sé che è mancata la politica e la forza del sistema Italia perché è importante che quando si fanno scelte di questo tipo non può essere una città a competere con uno Stato ma devono essere stati in questo caso noi ci aspettavamo che fosse un continente l'Europa a competere per riuscire a ottenere una vittoria come quella di Expo 2030 quindi è evidente che c'è stata una mancanza di azione diplomatica e ci racconta come il nostro paese nel mondo è molto isolato in realtà però fino a poche ore fa anche esponenti del governo nelle dichiarazioni ufficiali manifestavano il loro ottimismo era soltanto pretattica cioè in realtà già sapevano che le cose sarebbero andate male ma dovevano comunque dare l'impressione di essere al fianco di Gualtieri a Parigi mi sembra un'operazione un po' di propaganda come fa il governo per le misure economiche come fa il governo per affrontare le emergenze del nostro paese quindi non mi stupisco che il governo abbia raccontato una storia diversa da quella che era la realtà mi preoccupa invece l'atteggiamento del sindaco che aveva scommesso moltissimo su questa vittoria aveva scommesso e dedicato tanto tempo girando il mondo provando anche a legare tante delle iniziative della città diciamo al risultato di Expo 2030 adesso bisognerà voltare pagina e cambiare qualcosa perché questo modello che fino adesso si è portato avanti non funziona e lo dimostrano i dati arrivare ultimi diciamo dimostra come l'Italia e il Roma in particolare da questa vicenda ne escano davvero male tra l'altro la CGL so che era seduta al tavolo con della cabina di regia diciamo così con il sindaco Gualtieri nei mesi dei preparativi voi avevate la percezione che in realtà qualcosa poteva non andare per il verso giusto o eravate tranquilli cioè che tipo di feedback avevate voi dall'amministrazione comunale e immagino anche dai rappresentanti delle istituzioni che di volta in volta intervenivano ma purtroppo diciamo il coinvolgimento è stato non continuativo c'è stato un protocollo perché per fortuna a Roma ci sono i diritti dei lavoratori c'è la libertà e la possibilità di organizzarsi nel sindacato esistono delle leggi che disciplinano la salute e sicurezza e quindi per l'amministrazione il rapporto con i corpi sociali era un banto però c'è stato solo una piccola parentesi tutto il resto è stato gestito in autonomia in solitaria come avviene per tutte le scelte ed è per questo che ieri abbiamo detto che adesso bisogna voltare pagine e costruire un rapporto diverso con la città ascoltando e percependo anche quelle che sono le lamenti diciamo e le problematiche ma soprattutto bisogna provare a dare risposte perché dopo domani ci sarà da gestire il giubileo ci sono tante attività ordinarie e fondi di investimento da gestire e siamo preoccupati che non soltanto si sia persa l'Expo ma magari nelle prossime settimane e mesi ci possono essere nuove problematiche nella città quindi spero che l'Expo per l'amministrazione capitolina sia da lezione nei confronti del rapporto col governo e soprattutto cambi il loro atteggiamento nei confronti della città l'amministrazione non può pensare che una città complessa e importante come Roma si possa governare solo dal Campidoglio senza ascoltare nessuno sento venendo alle ricadute anche materiali le stime parlavano di decine di miliardi di investimenti che con l'Expo sarebbero arrivati sul territorio capitolino e della regione Lazio e poi importanti ricadute anche occupazionali alcune stime addirittura parlavano di qualche centinaio di migliaia di posti di lavoro si aveva l'impressione che a questa ipotesi ci si aggrappasse anche per avere nuovi stimoli per l'economia secondo lei la mancata assegnazione di Expo da questo punto di vista quali ripercussioni potrebbe dare e quali strategie vanno messe in campo in qualche modo per evitare che questo vuoto possa poi pesare drammaticamente sul tessuto economico del nostro territorio condivido molto la sua riflessione proprio perché noi siamo convinti che a Roma e nel Lazio manchino vere politiche industriali e di sviluppo e ci si è aggrappata ad Expo perché poteva essere quella leva che avrebbe travolto con le sue risorse il sistema economico della nostra regione e della nostra città ed è evidente che adesso essendo a nudo la difficoltà c'è necessità di ripensare di mettere in campo politiche industriali politiche di sostenibilità politiche per lo sviluppo e per il lavoro di qualità che sono le problematiche che noi viviamo quindi saranno settimane importanti per capire se l'amministrazione vuole voltare pagina e vi assicuro che noi come abbiamo fatto nei confronti del governo anche scioperando facendo iniziative contro i provvedimenti sbagliati ci faremo sentire dall'amministrazione capitolina perché le cose in città non vanno e adesso con la perdita di Expo bisogna tutti quanti fare rete fare squadra per provare a rilanciare la città che sta in grande difficoltà perché il 2024 sarà un anno di grave crisi economica di grave aumento del disagio sociale dove le persone e chi lavora non ce la fa arrivare alla fine del mese quindi sarà importante che sia il giubileo diventi il giubileo dei cittadini ma soprattutto che la prossima manovra di bilancio dia risposte alle cittadine e ai cittadini e anche qui registriamo che il governo è contro Roma perché fa i tagli quindi ci aspettiamo nelle prossime ore che il sindaco convochi subito le parti sociali per capire come si va avanti nella nostra capitale quindi voi siete al fianco del Campidoglio anche per quegli aspetti della manovra che rischiano di penalizzare i cittadini romani al di là dei tagli che voi non condividete giusto ieri mi permette di ricordarlo il segretario generale della CGL Landini ha confermato che si va avanti sulla linea della protesta dura contro la legge di bilancio l'incontro con il governo non ha dato i risultati che voi auspicavate io mi permetterei di dire che è un po' al contrario dovrebbe essere il Campidoglio a fianco della CGL e della Will che sono contro la manovra del governo che impoverisce la capitale noi ci aspettiamo che il sindaco faccia uno scarto rispetto alle sue posizioni e sostenga chi vuole dare più finanziamento al territorio chi vuole rilanciare il ruolo della capitale chi vuole dare una risposta ai salari delle lavoratrici e dei lavoratori e superare la precarietà fino adesso su tutto questo c'è stata diepidezza ci aspettiamo che alla luce anche di quello che è avvenuto ci sia finalmente una scelta di campo per governare bene la città e dare risposte concrete alle cittadine e cittadini che sono i veri sconfitti che subiscono una figuraccia internazionale e avranno effetti negativi se non si corre i ripari io ringrazio Natale Di Cola che è il segretario generale della CGL per Roma e Lazio vedremo se questo vostro appello verrà raccolto dal Campidoglio intanto è evidente che Gualtieri prima o poi dovrà dire qualcosa al di là delle dichiarazioni di rito che sono arrivate tramite l'agenzia di stampa subito dopo la sconfitta è evidente che questo rischia di essere un duro colpo per la città alla quale bisogna da subito reagire la ringrazio segretario per essere stato con noi le auguro una buona serata buona sera a voi grazie grazie al nostro ospite e anche a voi ovviamente che ci avete seguito vi lasciamo agli altri programmi della nostra emittente Estra torna domani alla solita ora arrivederci Estra tutti i colori dell'attualità con Claudio Micalizio